In tanti osservano che si sta disegnando il vero mondo post-crollo del muro di Berlino in queste settimane. Quindi che mondo post-bellico, post-wear in Ucraina abbiamo davanti? Hai ragione Anne Applebaum quando dice che in parte è vero che sta già avvenendo a dare più intelligence agli ucraini, che bisogna dare armi migliori e dare più armi. Le sanzioni devono essere ancora inasprite? All'atto pratico, questo vuol dire che gli ucraini dovrebbero farcela da soli, di fatto, con i nostri armamenti. Certo, ma io non credo che se per vittoria si intende, come normalmente si dovrebbe intendere, che l'aggressore viene ricacciato nelle sue frontiere, questo lo possono fare gli ucraini con le nostre armi. Bisogna essere chiari. Quello che si può fare sensatamente è trovare un compromesso prima che sia troppo tardi. E un compromesso che consenta all'Ucraina di vivere e soprattutto anche di poter essere ricostruita. Perché qui si parla di guerra, ma che cosa resterà dell'Ucraina se questa guerra dura dei mesi o degli anni? Ma lo dico per chiunque la governi, che siano gli ucraini, che siano i russi o che siano gli italiani. Chi se ne fa carico di questo paese? Ne stiamo discutendo. Chi è disposto a mettere centinaia di miliardi di euro per rimettere in piedi l'Ucraina? Primo. Secondo, volevo osservare che quella notizia che tu ci hai appena dato è piuttosto grave. Cioè il fatto che il Presidente degli Stati Uniti... Ecco, no, volevo correggermi, perché avevo in mente la conferenza stampa di Biden poco fa. La notizia, ovvero l'invito ai cittadini americani di lasciare subito la Russia e la Bielorussia, arriva dal Dipartimento di Stato. Sì. Infatti... Ma comunque, insomma, è una notizia ufficiale. Sì, certo. Un paese non ritira i suoi cittadini da un altro paese se non teme di finirci in guerra. E quindi? E quindi è un segnale molto preoccupante, io credo. Cioè la preoccupazione americana è che i russi possano rivalersi su cittadini americani in caso di conflitto o in caso di qualcosa che loro considerino conflitto. Quindi vedi la possibilità di un coinvolgimento degli Stati Uniti e dell'Occidente direttamente? No, io vedo semplicemente quello che dice questa notizia, cioè che gli americani hanno paura che gli americani in Russia non siano sicuri. E questo non è una cosa normale. Ann Applebaum, quando il Dipartimento di Stato americano invita i cittadini americani a lasciare subito la Russia e la Bielorussia, che segnale è? Credo che sia un segnale per i russi, che li siamo in ascolto, che siamo pronti a rispondere. E credo anche che abbiate ragione quando dite che si tratta di un segnale del fatto che la Russia potrebbe infrangere tutte le leggi, le leggi della diplomazia, le leggi della guerra e potrebbero addirittura vendicarsi sugli...